5 secondi All'interno Moroni non è partito male E c'è DC davanti, se non va derrato il numero 911C Faccia per Nardini, per Nardini in secondo, Ciucci E torna la quarta, la quinta con l'interno Moroni E' tornato in Golden Tire Capone Bernardini e poi il 222 Autore di una buona Vio, anche in questa gara 2, Cerdà Lacan Davanti a David e Ciucci